Annuncio ritardo. Il Trenovettore Express 2663 di Trenovett, proveniente da Milano Centrale e diretto a Mancola, del giorno 19 e 27, avviterà con ritardo previsto di 20 minuti, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per il disagio. Attenzioni, Trenovettore Crash 2664 di Trenovettore Express 2663 di Trenovettore Express 2660. Grazie a tutti. Grazie a tutti.